Ci porta nella dimensione dell'antropocene anche il libro di cui parliamo oggi, Underland, dello scrittore saggista inglese Robert McFarlane. Underland, cioè il mondo sotterraneo, un viaggio nel tempo profondo, è il sottotitolo di questo libro che è a metà tra il romanzo, la narrazione e il saggio. Attraverso i vari capitoli, del libro, lo scrittore che è già autore di best seller internazionali dedicati proprio agli attraversamenti dei territori, luoghi selvaggi e antiche vie, dicevo attraverso i vari capitoli del libro McFarlane ci porta nelle profondità sotterranee, cave, grotte, ma anche vere e proprie città nascoste sotto il livello di superficie, dall'Inghilterra alla Parigi sotterranea, alle cavità del Carso in Italia, fino alle grotte delle regioni nordiche più remote. È un viaggio affascinante nel quale lo scrittore cita e si ispira alle opere di altri grandi autori, in particolar modo le città invisibili di Calvino e si collega al tema dell'antropocene perché in queste profondità, dice McFarlane, si conserverà probabilmente nei millenni quella traccia della civiltà che un domani potrebbe essere cancellata dalle trasformazioni a cui le crisi climatiche ci mettono a rischio, ci espongono. E allora vale la pena leggere uno dei passi più significativi di questo libro. Sdraiato con la roccia viva che mi circonda da ogni lato, scrive McFarlane, mi chiedo che cosa resterà delle nostre città quando l'antropocene si diluirà nel tempo profondo. Quali contrassegni stratigrafici resteranno conservati nell'archivio di roccia? Tra i milioni di anni le megalopoli lontane dal mare, come Delhi e Mosca, si saranno sgretolate in sabbia e ciottoli. Le città costiere come New York e Amsterdam, reclamate per prime dall'inalzamento del livello dei mari, finiranno impacchettate con maggior cura nei sedimenti che si sono gradualmente formati. Ma a preservarsi meglio di tutte le altre saranno le città invisibili, le città di sotto, inglobate, come sono già oggi dentro la roccia.